amici ed amiche del canale un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con la serie dedicata a world of tank come sempre ringrazio moderatori moderatrici gli amici e amiche del canale i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social come sempre vi ricordo che nella descrizione del video oltre a trovare il link per visitare i miei canali social troverete anche un link per acquistare i giochi scontati fino al 70% e poi naturalmente come nostra abitudine visitate il sito www.ipianibio.it mi raccomando visitate ed acquistate con grandissima fiducia alle pendici del monte cucco nasce la società agricola bio i piani la genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli da noi troverai farro ceci lenticchie e farine di farro ceci e di granatura scegli il vero bio italiano buono e genuino scegli i prodotti di i piani bio i piani bio mangio bene anch'io www.ipianibio.it ci trovi anche su facebook ed instagram quindi mi raccomando andate a visitare il sito www.ipianibio.it come sempre anche per voi amici ed amiche di youtube nella descrizione trovate tutti i link che vi ho accennato allora andiamo avanti con il nostro addestramento questa sera siamo in compagnia del terzo plotone albis ardua vediamo un po cosa riusciamo a fare di bello stasera mettiamo subito il turbo e andiamo a conquistare subito la prima posizione qua alla prima sperando che non ci facciano la bella ai 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 ui vabbè la prima direi che andata non è proprio nella maniera più buona in assoluto andiamo avanti andiamo al prossimo livello abbiamo fatto un po' di riscaldamento ma non è stata proprio in massimo allora andiamo con questo qui sabbia del deserto ok sabbia del deserto ok e vediamo cosa ne viene fuori e vediamo cosa ne viene fuori mettiamo anche un po' di adrenalina mettiamo anche un po' di adrenalina attenzione cerchiamo un riparo tattico andiamo a conquistare la piazza vai e 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 indietro, fatti più indietro, Sherman, vanno a avvicinare. Vieni qua. Se è solo lui è rimasto, vogliamo. Oh! Ai! Non abbiamo penetrato la guardia. Vai! Grande! Mettiamo un bel gg, un bel pollicione in su per l'equipaggio. Questa direi che mi è andata molto, molto meglio. Allora, Grizzly. Mettiamo un bel... Power Super Tuck. A proposito di Power Super Tuck, saluto il mitico Aleasso, official. Saluto Moreno. Saluto anche Mister La Zappa Storta con Kaiman Lurie. G-Pong, i piani gaming, chi ha altro? Ah, comunque... Pollicione in su, mi raccomando. Ecco, che dici? Ah, chi è che l'ha messa? Bonbon. Ah, forse nella partita precedente. Allora, lì prendiamo lo Stuck, Stuck, Stuck. 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 Occhi aperti e pronti al fuoco. Occhi aperti e pronti al fuoco. Carro nemico danneggiato. Ehi, guido. Affacciati. Abbiamo cingolato. Siamo fermi. L'abbiamo preso. Carro nemico colpito. C'è un mitico bassotto qua. Siamo andati un po' troppo veloci. Decisamente troppo. Aia. Va sotto. Va sotto un po' iniziando a scoprire la verità. Eh, quando tu fai a kill. Guila! Morino carissimo. Buonasera. Eh, tuzza, eh, tuzza. Eh, sì. Diciamo che... Non l'ho fatta oggi pomeriggio e ho detto quasi quasi. La forza sera, con calma. Vai tranquillo, moreno, non preoccuparti. Grazie di essere passato. Poi ci... Ci becchiamo, ci sentiamo con molta più calma. Oh, quello è un SU100? No. Peccato che non posso scrivere messaggi qua. Ah, eh, vabbè. Da sempre... Un qualche colpettino light. Aia. Aia. Va sotto, scappa. Va sotto, scappa. Scappisci. Va sotto, scappisci. Mamma mia, che forza ha il... Va sotto a fianco. Aia. Aia. La vedo brutta. Eccala. Questo sono io, il carro mio. Ah, c'è ancora... Questo qui. Vediamo un po' cosa... Cosa riesce a fare. Vai, va. Vai, cicino, vai. Vai, caporale cicino. Aia. 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 Ah, ma c'è un bel... Un foro... Di entrata... Sulla... Sulla placca del cannone. Ah, quella è l'ottica. L'ottica di puntamento. No. Grazie, Morino. Grazie di essere passato. Buona main of wille. And thank you so much, my friend. No, no, non ho capito per chi è che ha messo il pollice versus. Visto che ho fatto... Ah, deve essere quella della squadra avversaria che ha messo il pollice versus. Allora, mettiamo... Il pollice su, ah. Visto che... A sto giro... A sto giro, come dice il mitico Fernbus... Che saluto. A sto giro non è andata proprio... Molto bene. Quanto manca? Quanto manca per il prossimo acquisto? Quanto manca? 4.000? 4.000? 4.000, yeah! Ok, allora dobbiamo fare un'altra partita. Poi prendiamo un carro nuovo. 935.000. 4.000, sì. Per un'andicchia non ce l'abbiamo fatta. Allora, prendiamo sempre lo stug, 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 stug e taz. Allora, qua ci sta il tog, mamma mia. Amo non facciamo il rambo, eh. Amo ce l'ha, dobbiamo giocare quanto meglio è possibile. I have to run and play the better way as I can do. Ma qui ci arriverà sicuramente. Andiamoci un po'. Vabbè, io me la svinio, eh. Oh, ma qui è? Ah, no. Non è stata una tattica molto saggia, eh. Come abbiamo fatto così? No, prossimo. Ci muoviamo tatticamente. Oh, c'è stato un neobrasilero. Tony. Faccici, rubaspita. Mi ha dato una bella castagna. Ma questo... Torbe. Ah, gli ha detto di attaccare questo carrua. Oh, finalmente qualcuno che lo va... a disturbare. Vai, vai. No. Go, go, go. Dai, ci sei quasi, ci sei quasi, ci sei quasi. Ci sei quasi. Bravo. Bravo, bravo. Sta bene. Va fa' csss la miseria. Dai. Io ho fatto la corsa in solitaria e solitariamente mi hanno fatto... il bagotto. Ruota, 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 ruota. Bravo, bravo. Eh, questo c'è il mezzo... C'è il mezzo buono, c'ha... Eh, voglio... Come sta messo questo? Non mi dice lo stato del mezzo. Uh. Aia. La fortezza volante. Voglio un moccolo, vi dovete mettere di impegno, eh. Ah, no, non dobbiamo mettere qua dietro. Uh. GG. Meno duemila. Beh. Guarda, addirittura... Allora, facciamo... Aspetta, ma fammi vedere un attimo una cosa qua. Fammi vedere. Adesso facciamo sul serio. Ci sta Sherman? Ok. Vediamo se mi riesce il vecchio piano. Off camera mi è riuscita questa manovra. Vediamo un po'. Questo è rimbalzato. Mi sono ancora troppi per fare la manovra strategica. Oh, sono ingastrato. Perfetto. 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 Villare la barra di sembrido. Perfetto. Mi sa che non la possiamo fare la manovra eversiva. E vabbè. Hai capito, Megadrive? Ok. Allora, no, mancano ancora altri quattro. Allora, noi ci facciamo un giretto con questo qui. Aspettate un momento. Facciamo così. Ok. Perfetto. Vai. Ok. Attenzione al settore 5, vabbè. Cerchiamo di pizzicarli alle spalle. Ok. Buongiorno. Il primo è andata. Sì. Grazie a tutti. L'importante è non stare mai sulla stessa posizione, cercare di non esserci. L'abbiamo danneggiato. Dai, l'ultimo colpo, dai. L'abbiamo danneggiato. L'abbiamo danneggiato. E vabbè. Ne erano in due. Decisamente difficoltissimo. Vediamo un po'. 9,33 qua per un colpe. Vediamo un colpe. Vediamo un colpe. Speriamo di non fare figuracce qua. Eh vabbè, ma qua ci sono dei carri mostruosi. La vedo molto, ma molto complicata. riuscire a portare il risultato alla casina. Qua per su. Per poco non l'ha giappato. Vai eh. Spuca, spuca. Vabbè. Vabbè. Questi stanno attaccando il mio amico Ultraman. Stanno attaccando il mio amico Ultraman. scambio colpito D- Abbiamo uno di meno E vabbè Abbiamo uno di più Dai, dai, corri, 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 dai, 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 dai Non fermarti. E vabbè. Uh, ragazzi, sul filo del rasoio. Sul filo del rasoio, guaiù. Siamo a provi a rischio. Il prossimo che si fa la vellam sono proprio io. Ce n'è ancora un altro vivo da qualche parte. Dai, 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 dai. No! Ah, guarda come dove sta. Wow, però un'andiglia. Eh, guarda che carrocello. Vai, vai, pensaci tu. Ma che peccato. E va bene. Willa, Harry, carissimo, buonasera. Amici, passate nel canale del nostro DJ Harry. Lui porta musica dal vivo, la fa con i vinili, mi raccomando, ragazzi. Mi sono passato qualche settimana fa nella sua live. Mi sono divertito con la musica anni 80, ma mi sa che fa anche un po' mix 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 by Harry. Vai, una bella scucatella di mani. Oltre ad essere un carissimo core regionale, anche un bravissimo DJ. bello consiglio, mi raccomando, iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto. caro Harry, grazie ancora, come sempre di darmi questo grande onore di averti qui. e... Ma avevo poco da resistere, la stavo... 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 infatti... mi è andata anche piuttosto bene. Ma qua... se riesco ad attivare... la mia... tattica... dovrei salvarmi. se i miei calcoli sono esatti, quanto questo reloce... quanto questo... toccherà le 88 migliorari, ne verremo delle belle. altro che ritorno al futuro qua. qua stiamo sui cambi di battaglia. stiamo in questo riuscimento di cavalleria meccanizzata. Allora, vediamo un po' se riusciamo a capire qualcuno da qua. Devo essere fortunato se non mi vedono che... se mi beccano ecco, per esempio, queste, no? Questo è un carro... eh, lo sapevo. Le ultime parole famose. Meglio. cambiare... Uh, ho sbagliato anche le mire, pensa te. Uh, mazza che... caspiterina, questo ce l'ho proprio qui. La faccia della miseria. Vai, vai. cingolo colpito. Carro nemico danneggiato. Vai, vai. Vai, colpisci, colpisci. Carro nemico danneggiato. Vai, vai. Vai, vai, spero, spero. Non abbiamo penetrato la corazza. Non abbiamo penetrato la corazza. Non abbiamo penetrato la corazza. Fregato. Fregato. E' un po'. Hai visto o no? Sì, ma questa mossa sta proprio ricca. Sta proprio... a fila a fila. C'è qua basta o niente... e mi hanno fregato. C'è la miseria, va. E riscordate che non c'è via l'altro carro che è un po' più resistente. Ui, non mi farà battere quest'albero, altrimenti... mi scamano qua. Vai, mettiamoci. Imetizziamoci qua. siiii abbiamo vinto ammaringiuto ah meno male che sei arrivato Harry perchè qua non si vedeva nemmeno nel binocolo la vittoria ah e mi sa che abbiamo raggiunto anche il nostro obiettivo vai vai and the winner is o gelato il gelato e ho fatto pure senza volerlo piccola pubblicità poi si chiamava taco e tico 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 taco sherry sherry lady nanananana 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 vai ci siamo fatti finalmente un bel carrozzo nuovo di pacca eh cioè di insomma quella la ora dobbiamo vedere equipaggio al 50% che significa? controlla il proprio carro in gioco aumenta la maestria dell'equipaggio migliore ah interessante ah aspido più alto il livello di maestria dell'equipaggio migliori saranno le prestazioni ottimo ottimo l'equipaggio può prendere abilità dopo aver raggiunto il 100% di maestri ok quindi addestra l'equipaggio avendo nella scuola di reggimento andiamo subito aumenta la maestria dell'equipaggio la maestria dell'equipaggio a destra andiamo a ah abilità questa abilità è una barra sotto ok l'abilità può essere addestrata su carri dello stesso tipo ok e quindi no non devo fare accelera ah qua sono cambiate anche le munizioni fra le altre cose a destra no questo non lo posso fare padroneggi e vabbè le abilità vediamo boh boh questa è la prima volta che proviamo questo carro questo è il panzer tiger 3 mi pare o 2 lo vediamo adesso lo testiamo proprio grizzo grizzo ahhh quanto ci è voluto ragazzi per raggiungere questo obiettivo caro Harry mamma mia che ci è voluto insomma che mo ci vedano a 3 km di distanze DISTANZIA però abbiamo un mezzo che è lento perché deve essere poi bisogna fargli leggerla molto caro caro quasi sicuramente questi mo oh caspiterina peccate che è un po' troppo lentino questo carro in questo momento eh qua la vedo nera la vedo black eh ho visto già un carro pesante qua io non mi affaccio no che non mi affaccio ecco qua ha messo l'invisibilità quindi questo cielo potremo trovare anche a breve alle spalle qua aia aia prepariamo l'atrenalina oh ma non lo vedo gia oh caspiterina mi sono incastrato mannagge vai Abbiamo un cingolo danneggiato Abbiamo un cingolo danneggiato Questi ci sono L'isinvisibile Breccato Breccato, questo ma ci frega A noi ci frega Vai vai vai, carica, carica Carica, carica Che mamma fatta Attenzione Attenzione E vabbè Ma dove sta? Torrenta danneggiata Possiamo a malapena ruotarla Eh vabbè Eh sì Eh ma quello è il car Bisogna Bisogna aumentare le prestazioni del car Bisogna Aggiornarlo Altrimenti E' così all'inizio Eh Oh ma non c'era proprio Paracune La categoria di car Eh Chi è questo? Ah War Daddy Questo l'ho beccato Anche oggi pomeriggio Off camera Ecco Bam Eh Questo c'è un bel Un bel cannone Mi ha fatto Mi ha fatto E mi ha fregato Oh però Abbiamo anche Senza volerle Abbiamo fatto Qualcosa di abbastanza buono Eh Facci una miseria Quando ne abbiamo Quanti Quanti Dinero Allora Diamo un po' Ehm Allora Questi quanti ce ne chiedono Eh mille Non ce la facciamo Dobbiamo andare avanti Dobbiamo Dobbiamo Qua Allora diamo un attimo Equipaggio No Mimetica Mimetica Allora Desertica Se non costa tanto Wow Quarantamila No Aspetta 8000 No Però Prendiamo qualche altro carro Nel frattempo Allora Prendiamo Il Panzer Ecco qua Questo qua Che abbiamo dei bonus Su Questi altri Questo E l'altro Panzer Che poi significa Carro armato In tanti scotti germani Allora Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta E' ora di andare Troviamoci una postazione Per fare Fuoco di copertura Tipo questo Per esempio Bene Se appare qualcuno Eccolo là Dai Entra nel Raggio D'azione Eccolo lì Dai Ah Fai Fai uscire un po' Con la torretta Quello lo sa Che lo becco Mai non posso Espormi Perché C'ho pochi soldi Aspetta Fammi vedere Se riesco a raggiungere Oh Dove vai Dove vai Donde vates Vediamo un po' Se riesco a Eccolo lì Ullala Attenzione Oh yes Va Ottimo Allora Quanti ce ne stanno Uno Due Tre Oh Caspiterina Ma Dai 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 Ah Ah Eh vabbè Mero distratto Mi hanno preso Alla Sprovvista Questo Dove sta No Questo Eh Questo qua Eh Adio Ce ne vuole Ce ne vuole Ahia Eh Se la vi Ci sono alcuni carri che hanno Un sistema di invisibilità Che fa parte di questo gioco qua Quindi È lo stesso che ho utilizzato anche io Nella prima parte Solo che poi dopo Hanno individuato Individuata la traiettoria Di tiro e di conseguenza Mi hanno fregato Ce ne è un in più Per loro Loro sono in due Oh Vai Questo è un colpo di Eccolo là Guarda dove è apparsa Questo è quello che mi ha fregato A me Ah Ce ne stanno due qua Ottimo Oh Ottimo Voglio Guarda di spalla E non è la parolaccia Ecco Bravo Questo c'è il profilo basso Ed è meno visibile Ah Che stai fatendo Che stai chiedendo Che stai chiedendo Che mi ha fatto a me Vai vai Aspetta che mi scapuzia Vai Ottimo Ma rimane solo questo Questa sta A 50% Quindi ce la dovrebbe fare Cucu No hanno vinto l'oro Ah Hanno fatto Più di l'oro Però E Cose da pezzi In questo manicomio Vediamo un po' Se riusciamo a No Allora Vediamo se Ci fa fare un aggiornamento Allora Vediamo quanti intanto Abbiamo incassato 8 Vediamo un po' Equipaggio Ah Ok Livello 3 Costo 100.000 Ah C'era miseria Ah ok Quindi per ogni carro Si fa L'addestramento Specifico Ok Ecco perché Quello mi vedeva Perché non avevo Impostato Il sistema Di Quello là Non avevo messo La rete sopra Beh Allora Qua come siamo messi Potenzialmente Vediamo un po' Eh 4.000 No Allora Andiamo avanti Con Questi qua E questo qua Eccolo qua C'è il bonus Per due Di esperienza E vediamo Cosa ne viene fuori Ok Ok, oh burtello, oh burtello, oh burtello, oh burtello, non so, vai giù, andatevi a fare una passeggiatina là giù, ovvia. Oh, ma che non sono riuscita, ma che c'è, mamma mia, ho spiegato due colpi, ecco, c'è qualcosa che non torna, ma questi colpi vanno storti, perché? Ah, non, io direi di spostarmi perché è infante sta posizione, è compromesso, vieni, vieni, la faccia di bello mio. Bello, ruggi, vieni, vieni. Oh, siamo immobilizzati, abbiamo scingolato, siamo fermi. La so che ci abbiamo incingolato, però, vieni, vieni, affacciati, affacciati bello tizio, vieni. Andiamo un po' se riuscire a... Eh, ma questi ce ne stanno due qua. E vabbè. E vabbè. Almeno c'è un problema, non possiamo muoverla. Non abbiamo penetrato la corazza. E c'è, grido. Sì, sì, questa po' c'è, fra poco ci fa male, non ci fa male, va? Spare, 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 stavamo in mezzo a tre. Che peccato, ebbè ma questi c'hanno dei mezzi esagerati. Eh, hai capito eh, ma quelli c'hanno dei cannoni da 8 mm e mezzo, 8 e 8, c'hanno dei calibri grossi, poi in 3, ho fatto il rambo, una meraviglia situazione, e me hanno rompato le, il, il carro armato, vediamo un po' quest'altro, Oh, però questo c'ha un carretto decente, oh, ma dove sta? Eccolo, guarda dove sta, guarda. Aia, ma è solo due? E vabbè, hanno vinto. Ah, eccolo chi è, questo qua dietro, e vabbè, sono stati più forti loro, decisamente. Eh, sì, complicato. Eh, ma questi sono organizzati. Non sono come me che, o come le squadre in generale. Questi sono quelli là che stanno, i professionalisti. I professional. Allora, vediamo se riusciamo, andando a fare un upgrade, un aggiornamento. Allora, questo che fa? Aumenta la radolazione, ma, meglio questo. Sì, ma chi ci vuole? Ci vuole molta fortuna, mucha, mucha fortuna. Vediamo un po' con questa cosa riusciamo a fare. Il bonus l'abbiamo esaurito per tutti e sei carri, quindi. Mo' si va a zero, diciamo, si va a cose standard. Star Dental Bulls. Ah, qua c'abbiamo il Tiger. E quello fa male, il Tiger. King Tiger 4. Sì, sì. Noi ci facciamo due risate. Mo' si va a piazzare in mezzo alle fresche frasche dove mi devo posizionare. E... Beh, facciamo un tentativi, vediamo se ci va bene. E riusciamo a... Vado a occupare... Dando il dirigibile qua che brucia. Sì, c'era la miseria. Nemico colpito. Abbiamo un singolo danneggiato. Non l'abbiamo neanche graffiato. Eh, dobbiamo farlo male. Corazzato nemico colpito. Non abbiamo penetrato la corazza. Boom. Gli abbiamo fatto la bua. Però questi mi arrivano... I frat cucini. Arrivano i cucini. Vediamo se riusciamo a pizzicare. Oh, questo è bello forte. Questa sì che è forte. Allora, dobbiamo girarlo per forza. Oh. Oh. N'è cosa? Oh. 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 No. Oh, ma... Shh. Eh, va, va. Vai, vai, vai. Dove sta? Ah, bravo. Bravo, bravo. Oh. Ah. Ah, sta là sopra, sta. Ma uno alle spalle, no? Ti guarda frontale. Ma... Sì. Eh, voglio. Eh, sono tu. Eh, cercate di beccarle una alle spalle. Che caccia. Che caccia. Eh... Non si è sicuro che c'ho io, quello là. Sulla... No, questo, ma l'altro là. Vai, va. Vai, va. Eh, aiutate a questa che... Vai, vai, vai. Vai, vai. Dai, dai. Agito. Eh... Eh... Io sapevo. Shh. Dove sta? Ah, fammi vedere la barca volante. Non è proprio il massimo, sto... Sto carri armato, eh. Bello ingombrante. Vai, vai. Vai che stanno conquistando. Oh, ma non l'ha beccata. Eh, se tu non... Tanti sposti. Eh. Non becchiccia. Il beccuccio. Eh, eh, eh. Ua, non me la vado a che seri. Vai, vai che si sta avvicinando. Conquista la vittoria. Ah, ma è veloce. Vai, ah. Oh, ma uno al punto C non si può andare. Stanno tre di loro. Ah. Oh, tre di loro. Uno poteva andare al punto C e si pregnava. Allora, mettiamoci un bel pollicione in su. Dobbiamo arrivare almeno a 4.000 punti di esperienza per poter potenziare il mezzo. Eh, sì. Eh, non resistite molto più di me. Ah, questo qua. Questo lorri warrior lo ha avuto come avversario. Bravo. Anche se lui comunque sa. Si è fatta la cartella. La cartella. La cartella è equipaggio. Addestramento. I miei amici sono mai al 100%. Probabilità. Ok, quindi man mano che noi andiamo avanti, questo sblocca la situazione. Oui, Harry, grazie ancora di essere passato. Buona ammaina pupille. Allora, fra poco pure io vado a fare ammaina pupilla. Mi raccomando ragazzoli, seguite DJR. Allora, ti faccio sentire una cosa. Oh, non funziona. Senza volerla l'ho messa a tempo, mentre tu solfeggiavi nel video, portavi il tempo con la testa. Questa l'ho fatta io, il sound alert. Vabbè, Easy Lady. Ho preso solo la base musicale e poi ci ho fatto tutto io. Enrico, grazie ancora di essere passato qui nel canale naturalmente. Ti dedico una bella frase del nostro grandissimo Totò. Ragazzi, è venuto DJR80. Totò, cosa gli dici? Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Eh, grazie ancora, Harry. Buona notte. Ci becchiamo da te. Cercherò di fare un saltino sabato, dopo domani faccio un saltino da te. Così, così vengo a fare il pomeriggio bailante. Anche se mi pare che settimana scorsa, sabato, non eri live. Perché ho dato un'occhiadina così. E quindi ho visto che non eri ancora presenti, insomma, non eri operativo. Grazie ancora, naturalmente. torna, torna sempre che, lo sai, mi fa sempre piacere. Allora, facciamo un altro shootout. Sono pochi gli spettatori, però ci sono quelli che guardano i video in replica, quindi magari passano da te. Quindi, amici di Twitch, anche voi che non siete iscritti a questo canale, che venite, come dire, a sbirciare per fare la fotocopia, eh? Passate dall'amico DJR80. Naturalmente, non ditegli che vi mandate, anzi, se andate nel suo canale, portategli i saluti da parte mia. Ciao, Harry, alla console DJR80. Allora, qua possiamo iniziare già a fare l'upgrade. Non è questo, non è questo, qual'era? Questo qua. Allora, vediamo un po', potenziamenti, 4, no, manco quello si può fare. 4 e 4. Aspetta un momento, ma... Ah, ecco qua. Allora. Ah, questi sono i cosi standard, ok, quindi, con questo, andiamo più veloce. Ok, Harry, ci becchiamo, dai. Buona continuazione, anzi, buona ammai na pupilla e grazie ancora di essere passato. Allora, allora, 4, 4... Allora, 4... Il nostro veicolo Furtunation. E vediamo cosa ne viene fuori. 2, 2, 1... Amico o nemico? Speriamo che qualcuno vada dall'altra parte. Qualcuno vada dall'altra parte. Breccato. 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 Resisti, compa, resisti, compa, resisti. Boom. Non lo abbiamo neanche cambiato. Non dirmelo. Boom. A sfido. Ah, è tornato il gemello qua. Ah, è tornato il gemello qua. Fermati. L'ho listiato. Vai, falla avvicina, falla avvicina. A sfido. Allora. No. Come qui. Come qui. Come qui. Amico orcito. non fa vedere niente no eh va bene e tiriamo ah no ho vinto qui c'è rimasto qui c'è rimasto siamo inizio allo spettacolo qui c'è rimasto qui c'è rimasto qui c'è rimasto dai dai ma poi te ne restano mille come dice la ma sono io che non riesco a mirare qui c'è rimasto io sono un po' lentino vai vai metti un po' di turbo qui c'è rimasto qui c'è rimasto troppo lento 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 Andiamo. Quo aversi. 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 Troppo lento. Quo aversi. 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 Grazie. 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 Io ho detto di conquistare la posizione. Oh, uno. Vabbè, facciamo attaccare. Questa mi è piaciuta molto di più. Questa sessione qua. Decisa molto, 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 molto meglio. Molto, molto meglio così. Molto, molto meglio. In questo modo. Qui ci vuole un bell'applauso. allora vediamo un attimo una cosa raggio visivo velocità media potenza del motore allora andiamo un po' allora andiamo a questo poi proviamo questi qua questo poi questo velocità media potenza del motore raggio visivo questo raggio visivo 10 e 4 3 21 vediamo come va grazie a tutti Grazie. 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 Cambiamo. Facciamo quest'ultimo passaggio poi ci congediamo e ci pecchiamo al prossimo. Occhi aperti e pronti al fuoco. Non abbiamo penetrato la corazza. Non abbiamo danneggiato. Non abbiamo fatto male. Abbiamo cingolato. Siamo fermi. Ok ragazzi allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete venuti a salutarmi. Quindi ringrazio Morino, ringrazio DJ Harry per essere passato a salutarmi. L'appuntamento naturalmente è per la settimana prossima. E allora grazie mille a tutti. Thank you so much. E state un buon ragione. Grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la Società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100%. Alle pendici del Monte Cucco nasce la Società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano. Buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ci trovi anche su Facebook. Ci trovi anche su Cloud. Viado oltre anche su fondamentale dell'Apalov Alg immagino. Si ecco gli ostri frug generati. Così ci trovi anche su alt circumsangs. Lo vero bio piano settaro.